Grazie 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 Uno, pira 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 Al quarto posto La Pieve Con 4 minuti 51 secondi E 39 10 Terzo posto Benvedere Con 3 minuti 63 secondi E 19 10 Secondo posto Secondo posto Membrino Con 2 minuti 53 secondi E 0,23 Primo posto Imporgendo 1 minuto 73 secondi E 29 decimi R но A 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.